Sold out. Non c'era un posto libero al teatro comunale di Belluno per l'evento Alziamo la voce, concerto benefico organizzato dal comitato Gocce di Sole per raccogliere fondi per la ricostruzione del parco fluviale di Lambioi, distrutto dalla piena del piave durante l'ondata di maltempo di fine ottobre. Mattatori della serata Elio e Rocco Tanica, che hanno condiviso 36 anni di carriera in Elio e le storie tese. Io mancavo da Belluno ed intorni esattamente dal 2008, sono 11 anni da che abbiamo stato qua. Quello che ho trovato di intatto è la gioia delle persone che si guardano in faccia e che ti accolgono, anche dopo aver trascorto momenti difficili come quelli che tutti sappiamo. Speriamo che questa sia non l'inizio della rinascita, perché secondo me la rinascita è già cominciata, ma che sia un bel prosieguo in modo che questa cosa resti un cattivo ricordo per le cose brutte che sono successe. È un bellissimo esempio anche per gli altri che capiscono che unendosi si possono fare grandi cose sul territorio e con le persone. A dare l'impulso e anche il titolo alla serata sono stati 50 artisti che nei mesi scorsi hanno registrato Belluno alza la voce, una canzone che ha consentito di raccogliere soltanto tramite gli store digitali, circa 5.000 euro. Durante la serata sono saliti sul palco anche i 38 corde, il cantautore Lelio Morra, il violinista e il direttore d'orchestra Andrea Moro con il tenore Domenico Menini e il pianista Alessionelli e il mezzo soprano australiano Anna Fraser. I fotografi di luci sulle fronde hanno donato 10.000 euro e poi ci sono gli incassi della serata. Grande emozione anche nel vedere la risposta da parte del pubblico, nel vedere i video, è stata veramente una serata commovente e coinvolgente e credo che rimarrà insomma un bel ricordo per tutti quanti. Quanto avete raccolto? Ma per la serata all'incirca 10.000 euro, poi naturalmente ci saranno delle spese da sostenere però insomma l'importante è che sia passato il messaggio che la gente abbia percepito questo grande legame che c'è stato tra i belunesi e la loro terra perché veramente si è mossa un po' tutta la comunità per partecipare alla ricostruzione di questo territorio e questo ne è l'esempio.